Eh sì, però non sono le zone nelle quali puoi trovare Charmander Lo puoi trovare in qualunque zona, basta che non si sia la zona con l'erbalto Ah, allora non mi cambia un cazzo di dove sei No, infatti, stavo vedendo male io Puoi trovare... Charmander! Ma come cazzo è possibile che parliamo del Pokémon e Dash, zi? Vabbè Allucinante! Aspetta, che modo dobbiamo catturarlo però? Ma qua ti voglio Usiamo il Vulpix Shiny per prenderlo Ti prego Vulpix, non fargli danno Attacco rapido, non fa danno Ok, non gli ha fatto praticamente danno Però sembra che ho paura di fargli un altro colpo che gli fa tipo un brutto colpo Può catturarlo con questa vita E niente, zi Chiustura live, inizio live, devastante Posso dire? Posso dire? C'è allucinante, cazzo Catturati però, entra nella Pokéball! Non ci credo È allucinante, regà Lorenzo è sconvolto, regà Dai, però entra, maledetto coso C'ha Draco Spiro! Che cazzo dici? Diventa nella Pokéball si Uno, due, tre BAM! Yes! Yes! E let's go! Oh, mo ci vuole il Franky Team, cazzo Boom! Ci prendiamo anche Charmander Era volato una tazza L'ho salvata Il tempo Ok Che cazzo vi devo dire, regà? School of Mate is gone back Abbiamo Lo Shiny E Charmander in the same line E Charmander in the same line Nella stessa line Salva Perché non voglio effettivamente dei progressi Grazie, salva Non sia mai, assolutamente Salva il gioco, perfetto